Pilates, ecco perché può cambiarci la vita, e il corpo Il Pilates è una disciplina che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Non solo può migliorare la qualità della vita delle persone in età adulta, ma è un complemento magnifico per chiunque aspiri a vivere una vita più sana e lunga. Le origini del Pilates risalgono alla Prima Guerra Mondiale. . Fu allora che uno sportivo tedesco, chiamato Joseph Pilates, cominciò a sviluppare e applicare sui malati tutte le conoscenze di fisioterapia, traumatologia, ballo e ginnastica che aveva acquisito durante la sua infanzia vissuta da bambino con problemi. Una volta conclusasi la guerra, Pilates si trasferì negli Stati Uniti e cominciò a diffondere le sue tecniche. La chiave del suo successo fu la formazione perfetta dei suoi discepoli, che hanno diffuso la disciplina aprendo i loro centri specializzati e, a loro volta, formando altre persone. Uno degli errori più comuni è credere che il Pilates sia una disciplina di riabilitazione. Sebbene sia vero che favorire il recupero fisico è uno dei suoi vantaggi principali, non è assolutamente lunico. . Lobiettivo del Pilates è quello di rinforzare tutta la muscolatura del corpo, così come migliorare la flessibilità e lagibilità, incrementando la forza e la capacità di concentrazione. . Joseph Pilates, creatore del metodo, disse, In 10 sessioni sentirai la differenza, in 20 sessioni vedrai la differenza, e in 30 avrai un corpo completamente nuovo. .